Sì, non sto bene, non sono sereno, non sarò mai sereno, ma se fossi sereno non sarei me. Ce la faccio, te lo giuro, il cervello non mi regge. Ma dovrei... Urlare, urla. Urla! Io guardavo gli altri, analizzavo gli altri, per cercare di capire come gli altri possono provare queste sensazioni, queste emozioni. E come nel resto della mia vita ho analizzato gli altri, senza pensare a me stesso. Ma io sono molto debole mentalmente, se uno mi conosce dentro la testa, il problema è che non lo faccio vedere. Io credo che a volte la nostra bellezza sta nella nostra fragilità. Il mondo intorno si ferma, è tu che lo decidi, che si fermi il mondo. Se non hai questo potere, non serve a niente avere potere. Devo ritornare a combattere, se mi rilasso troppo o no? Se combatti con un'attitudine tranquilla e centrata, combatti meglio, senza perdere, senza perdere la grinta. Se non hai questo potere, non serve a niente avere potere, senza perdere, senza perdere, senza perdere, senza perdere. Se non hai questo potere, non serve a niente avere potere, senza perdere. Grazie a tutti.